8, 2, 4, 6, 8, no, 3, 9, 12, no, quindi si fanno altre due a prima della filata? Esatto. Quindi a Monella ci sei, sia la prossima, sia la prossima. adesso bisogna andare a vedere lei perché ha vinto la prima e lui quella dopo adesso ci sono i semifinali i semifinali sono le prime due batterie con il secondo giro tu invece hai un simile il anticipo Bruno vieni adesso voglio vedere quando che siete qua isti chi sia con uno che con qualche altro come fa chi te che ha salto a parte se non voglio farlo non mi metti ormai il dato è il tratto ormai il dato è il tratto ormai il dato è il tratto bravi dai dai è il tratto 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 è il tratto